Partiamo da una scomoda ma innegabile verità. Per avere buoni voti a scuola, passare un esame, stare ore e ore sui libri non basta. Anzi, a volte è quasi inutile, se non si possiede un buon metodo di studio. Per rendere veramente efficace lo studio, senza rischiare di stancarsi oltre misura e poi non avere alcun reale beneficio, un metodo che funzioni è assolutamente fondamentale. Il videocorso Metodo di studio efficace nasce quindi dall'esigenza di semplificare l'approccio allo studio apprendendo tecniche consolidate dall'efficacia garantita. Questo ti permette di ottenere grandi risultati con un consistente risparmio di tempo ed energia. Il videocorso Metodo di studio efficace ti insegnerà l'organizzazione ambientale e materiale, la struttura di un testo, la pianificazione del tempo, la lettura strategica e la lettura critica, la fase di verifica, la preparazione mentale e la gestione dell'emotività, l'esposizione e infine la memorizzazione sul lungo termine. Un videocorso fa risparmiare tempo perché i video sono accessibili sui propri devices preferiti dove e quando si vuole, nel tragitto verso la scuola o l'ufficio, sui mezzi pubblici, in aereo, al parco. Inoltre la possibilità di fermare la riproduzione in caso di necessità e tornare indietro per riascoltare più volte un passaggio facilita la comprensione rispetto a una lezione frontale offline. Dai il giusto metodo al tuo studio. Affidati al videocorso Metodo di studio efficace. Se questo video ti è piaciuto e hai trovato utili suggerimenti, iscriviti al canale e seguimi sui social.